Buonasera, questione morale, l'avvocato Aiello è inquisita per truffa, è stata sospesa? Sospesa per nove mesi e la questione di Doriana in bimbo come la mettiamo? Parliamo della questione di Doriana in bimbo, rispondi su Doriana in bimbo, rispondi, non ti arrabbiare, rispondi al basso, fai i confronti, fai i confronti, parla di Doriana in bimbo, parla. Parla di Doriana in bimbo, vergognati, vergognati!